Gelato istantaneo con cioccolato e yogurt, super cremoso, vediamo insieme come preparare. Prima cosa, versate il latte caldo, mi raccomando, qui dentro. Aggiungiamo un cucchiaio di miele, quindi mescolare il tutto. Adesso unire anche i cubetti di cioccolato, io ho utilizzato quello fondente. Aggiungiamo bene il tutto e facciamo raffreddare. Successivamente aggiungiamo lo yogurt al cocco. Secondo me ci abbina benissimo. Mescolare ancora. Adesso riempite gli stampini per il ghiaccio. Gli stampini vanno 6 ore circa nel congelatore. Trascorso questo tempo prendiamo i cubetti e li mettiamo direttamente nel boccale. Se non avete il bimbi potete utilizzare un potente frullatore. Mettiamo il coperchio e lavorate il tutto 30 secondi a velocità 5. Ovviamente al solito spatolando, così. Solo pronto da gustare. Come potete vedere in pochissimi istanti il gelato è fatto. Mettiamo nelle coppette. Il gelato è super cremoso. Con questa dose ne viene una coppetta di queste dimensioni. Provatelo e fatemi sapere se vi è piaciuto. No. Grazie a tutti.